Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questo oggi video o Zai Tini Day o cosa mangio in un giorno. Per quanto riguarda la colazione ho deciso di preparare questi cornetti davvero molto semplici da realizzare, sono dei cornetti al cioccolato. Li ho scongelati la sera prima perché hanno bisogno di una levitazione dalle 6 alle 8 ore e l'indomani basta semplicemente infornarvi a 180 gradi per circa 15 minuti. Sono molto soffici e ve li consiglio. Per quanto riguarda invece il pranzo ho preparato un pesto alla trapanese che è un piatto tipico della mia città, basta semplicemente pomodoro, basilico, aio, olio, sale e pepe e aggiungerlo alla pasta. Un ecco piatta vincente è un piatto di patatine, vi lo chierete sicuramente i baffi. Per merenda mi sono mantenuta leggera, ho semplicemente tagliato a fettino limone e li ho aggiunto a un bicchiere di acqua. Vi consiglio di lasciarlo un po' riposare in frigo e aggiungere un po' di zucchero, una bevanda estiva perfetta. Per quanto riguarda invece la cena ho deciso di preparare una pizza con la sfoglia. Avevo questa sfoglia in frigo e ho deciso appunto di aggiungere un po' di passate di pomodoro, parmigiano, olive e un po' di sale, olio e pepe. L'ho lasciato in forno a 200 gradi per circa 15 minuti e il risultato è davvero ottimo. Spero che vi sia piaciuto questo mio video all site in a day e fatemi sapere come state trascorrendo quest'estate e io vi mando un bacione grande. Ciao! 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 Ciao!